La determinazione del generale Rigo, commissario per la bonifica, ad imprimere al processo un'accelerazione ha generato un dibattito assai intenso, ma quando prevalgono foghe emotive ed ideologismi si rischia di eludere dalla discussione i temi effettivi che dovrebbero qualificarla. D'altro canto, per troppo tempo è stato annesso alla bonifica un valore taumaturgico, automaticamente risolutivo dello stremo economico, sociale e sanitario, in cui ormai cronicamente versa il territorio. E' quanto affermano il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odonto Iatri della provincia di Crotone. Si è sporadicamente affermata una nostra titolarità politica che, lungi dal ritenere la bonifica una provvidenziale opportunità, ne esplorasse reali potenzialità ed indubbie contraddizioni allo scopo di orientarla verso approdi realmente propizi per la nostra realtà. Forse rassegnata quanto iniqua accettazione della subalternità del potere pubblico a quello finanziario, è di attualità nelle ultime settimane una viva tensione dialettica sui vincoli relativi ai rifiuti della decontaminazione. Voci territoriali si oppongono alla volontà dell'ENI di smaltirli in una discarica locale. L'Ordine dei Medici non può manifestare indifferenza rispetto a tali questioni, e anzi obbligato ad esprimere qualche propria valutazione. È un dovere contemplato nell'articolo 5 del Codice di Deontologia Medica. Questo sostanzialmente ed evidentemente molto appropriatamente riconsidere il ruolo del medico riconoscendogli l'obbligo di comprendere nella promozione della salute tutti gli elementi che concorrono a definire ambienti di vita, di lavoro, livelli di istruzioni, di equità sociale. In forza di tale ispirazione dottrinaria, il nostro Ordine non può che affermare con la ineluttabilità della bonifica quella di sostenere la vedutezza politica puntualmente interpretata dalle amministrazioni locali e regionali che, limitando massimamente i rischi per la salute collettiva, sappia proseguire con tenacia la potenzialità di sviluppo sociale ed economico correlata a loro volta tutt'altro che estranea la tutela della salute stessa, per come, d'altro canto, sostenuto dall'OMS nella definizione stessa di Stato di salute.